Eccoci qua! Bella a tutti dal vostro Gabbo Man! Siamo tornati su Figa... Eeeh... No, FIFA! FIFA 16, scusate, vabbè, stavo a pensare un'altra cosa Eeeh... Oggi ci facciamo un bello spacchettamento perché l'ultima volta, visto che con pacchetto oro tranquillo tranquillo Ci ho pescato osil e ci ho guadagnato bei crediti, ci ho voglia di rifarmene un altro Andiamo subito col pacchetto argento, non ci starà un cazzo, però non ci frega niente, io voglio Muriel! Voglio Muriel! È satico, questo è satico Eeeh, vabbè, oh, eeeh... Ci piace? No, non ci piace però... Però niente, inviamo tutto al club e sta a posto così Forza, moh, facciamo sul serio, ci facciamo qualche bel pacchetto oro, eeeh... Oh, oh, oddio! Oddio, oro maxi! Oro maxi limitato, non lo sapevo, non lo sapevo, me ne pesco uno maxi e qualcuno, oro premium Quindi, subito oro premium, 7500, oggi mi sveno, oggi mi sveno Guardate che questo è osil, no, osil già l'ho piato Eeeh, Cristiano Ronaldo! Eh, oddio! Od... oddio È... 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 è montan... è montanes, è montanes, vabbè Eeeh, mov... questo è un terrorista, porca puttana Levamo... ma... madonna mia, non se sa quale è peggio Poi c'è... madonna... e che cazzo è oggi? Incredibile! Ma guardate che facci! So proprio raccomandabile, vabbè Andiamo avanti Eeeh, non c'è san cazzo proprio Zero! Allora, mandiamo tutto al club Il doppione, come te consueto, si butta nel secchio Eeeh, c'ho 30.000 creditozzi Io direi te faccio un altro pacchetto oro premium 7500, dai, che se ne vanno, che è una meraviglia Quindi, terza bustina del giorno Ecco Ronaldo! Ecco Messi! Eccolo! Eeeh... oh, e beh, questo è forte, oh dai Su, Rodriguez non è male Cioè, se può, sicuramente fa qualche bel creditozzi Non so se c... 4, 3, 5 mila Boh, non lo so E poi vedrò, bene così Monreal, Granquist Ancora va in giro questo, c'ha 118 anni Eeeh, Fernandez Isai, Olivera Contrattini E questo che manna fanculo la... no, eeeh, vabbè Ok, andiamo avanti Inviamo tutto al club Cioè, facciamo ancora un pacchetto oro premium Io ce voglio riprovare perché Comunque, se sa mai, dovessi beccare qualcosa De buono Oh, provamoci, daie Eccolo, la bustina E' Cristiano Ronaldo Eeeh, no, è Luan Il pisellone di Akite Mamma mia, questo è proprio duro Eeeh, Luan Ma Luan, ma chi cazzo Eeeh, non lo so Eeeh, Doria Doria Ancora campa Non so manco se è quello Oh, ma avete rotto il cazzo con sti gesti, eh Eeeh, non è possibile Eeeh, me fa schifo Non ho trovato niente E quindi inviamo tutto al club Oh, pare fatta apposta Va, me sono rimasti 15.343 crediti Io ve l'ho detto Me voglio rovinà Vediamo che cazzo ci esce fuori 24 genti 20 oro 7 rari Vediamo che ci esce fuori 15.000 Sì, paga Vai, me rovino Voglio un TOTS Voglio un IF Voglio un IRO Voglio Voglio Chi cazzo Chi cazzo Ma va Ma non è possibile Però, eh Non me puoi Fa ste cavolo De burle Ma chi è Sane Parlamoce chiaro E se, vabbè Ok Quello che ve pare Ma a quanto posso venne Questo è Cing chong chung Poi c'è Rimando Questo è rimandato Però non gioca mai Arshavin Che ormai però È diventato Un pippetto De quelli Proprio inguardabili Gordon C'è Loto No, c'è Iudo Scusate Questo è Val rincoglionito E bene così Mazza i contratti Io ce n'ho veramente tanti Io Bono così Mille Mamma mia Questa è la cosa più bella De FIFA Mille crediti Sono ritornato 1343 crediti Se vi è piaciuto il video Mi raccomando Mettete un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Detto questo Non mi resta che dava appuntamento Alla prossima Se riparte con la compravendita Perché non c'ho più crediti Devo assolutamente Riaccumularli Per far spacchettamenti Quindi raga Vi saluto Bella a tutti Ciao